Mar Venturi in Calabria, la corsa contro il tempo, il mare lo troviamo sempre, i vecchi veicoli, non è dentro, vai qui sul mare. Ultime tracce di Abruzzo passando per una Fiat 124 ed arrivando in Irpigna, passando dalle zone di Foggia, il tour verso la Calabria. Ragazzi, appassionati, appassionati di vecchie Fiat. Auto, guardate un po' cosa troviamo dopo l'autocarro pesante OM Titano, guardate un po', andiamo a trovare una bella, vecchia gloria. Saluto Max, saluto Demi, saluto Manu, saluto un po' tutti gli amanti che amano la Fiat 124. Qua si tratta di una Fiat 124 Special, 1400, mi sembra che è stata in produzione tra il 1968 e il 1974. mi sono letto bene la scheda di qualcuno, non di Wikipedia, ma di qualcos'altro. Rispetto alla base standard, dicono che ha subito dei vari miglioramenti, anche estetici, ma hanno detto che faceva anche meno rumore, ecco, dotata di un carburatore a doppio corpo, mi sembra una potenza a cavalli fiscale sui 70. va bene, dai, l'abbiamo messa in saccoccia, io sono un appassionato della terza serie, perché ho dei ricordi, mio zio aveva una 124 terza serie, però questa 124 non è male, eccola qua, ve la faccio vedere, così è la buona. Il signor Antonio, che ringrazio, che ci ha dato la possibilità di mettere da parte queste tracce di storia. E va bene, dai, non ci interessa quella messa da parte, è vissuta questa auto. Sarebbe un po' da riprendere, però cosa volete che vi dica? Importante che c'è, ecco, forse sarebbe meglio metterla al coperto, guardate un po' traccia di titano, bella Fiat 124 Special. Ce la siamo gustata. Saluto un po' tutti gli amici anche del canale appassionati di vecchie Fiat. Eccola qua, eh. Saluto anche l'amico Alberto Salvi. Angelo Carucci, e tutti quanti, Antonio. E riprendiamo il viaggio, il tour, verso. Arianno Ioppino. Poi ditemi voi se ha tutti i pezzi originali, eccetera, eccetera. Importante che c'è, ecco. Io dico sempre, non c'è i pezzi originali? Va bene, la buona, dai. Meglio con qualche traccia, non sua, del modello, con altre serie, però l'importante è che c'è. Ragazzi, ciao a tutti. Spettacolo. Ecco qua, cari amici, da poco tempo sono uscito dall'autostrada a Poggio Imperiale e adesso mi avvio verso l'Irpinia. Qua siamo in Puglia, Poggio Imperiale. 6 giugno, 24. Avanti con il tour verso Arianno Ioppino. Eccoci qua, grazie, sai? Spettacolo. Sempre bene? Alla grande. Dona Foggia. Ancora zona Foggia. E diciamo panorama abbastanza desertico. Ma andiamo avanti lo stesso noi. Ecco qua, ragazzi. Situazione di paesaggio così dimenticato. Ed il casa. E niente, dovremmo essere, insomma, in zona Irpinia, ecco. Adesso andiamo a vedere. Insomma, dovrei essere entrato in Irpinia.